Quasi 80 milioni di euro per il sedicesimo elenco che è in pubblicazione sul sito del Comune dell'Aquila. Uno sprint delle ultime ore ha permesso di raggiungere questa cifra rispetto a quella di scarsi 50 milioni annunciata a tempo dietro. Continua a pensare, ha detto l'assessore alla ricostruzione del Comune dell'Aquila, Pietro Di Stefano, che abbiamo ancora una produzione insoddisfacente e di questo state di cose la maggiore responsabilità è da attribuire al fatto che vengono presentate pratiche incomplete per le quali devono essere chieste le integrazioni che non sempre vengono consegnate integralmente nei tempi previsti. Spero che il nuovo ufficio per la consegna dei progetti, parte seconda, serva ad ovviare, ha detto ancora a tale situazione, rifiutando le pratiche che ad un primo esame al momento della consegna si rivelano incomplete e lacunose. Serve anche un migliore coordinamento tra gli uffici del Comune e quelli dell'Usra perché il continuo rimpallo dei documenti, in qualche caso incomprensibile, produce un allungamento dei tempi non giustificabile. Sono deciso nel pretendere dai dirigenti di ambo gli uffici l'emissione di provvedimenti che combattano questa soffocante burocrazia, tuonato di Stefano, bisogna anche dire a discolpa di chi opera che la complessità delle pratiche insieme con i ritrovamenti di carattere culturale e storico che spesso affiorano nelle indagini di progetto comportano una revisione del contributo per assicurare una migliore qualità dell'intervento di recupero. Sul sito del Comune verrà anche pubblicato da lunedì l'elenco dei progetti parte seconda che possono essere presentati direttamente al nuovo ufficio di Via Vezzano 11, dove è possibile anche ritirare le credenziali per la presentazione online. L'elenco si riferisce ai comparti della città capoluogo, mentre il precedente, quello prossimo di fine settembre, riguarderà esclusivamente le frazioni. I comparti interessati in questo elenco sono Santa Giusta, San Pietro, San Marciano e Sant'Andrea, Via 20 Settembre, Borgo Rivera e Villa Gioia.